Fredina Fiucci, TG La7, velocissimo. Perché poi purtroppo devo tornare a Roma. L'allarme ai forconi è finito? Come? L'allarme ai forconi è finito? Non lo so, non lo so se è finito. Non lo so se è finito. Io sono sempre stato molto attento in questo periodo alle espressioni del disagio. Perché il disagio in Italia c'è, così come c'è in Europa. Lo si è visto anche in questa giornata in cui ognuno di noi per arrivare qui ha dovuto fare dei giri complessi. C'è un disagio profondo dovuto alle scelte che si sono fatte in questi giorni, in queste settimane? No. Il disagio c'è, è la conseguenza lunga, sociale, in termini di perdita di posti di lavoro, di disoccupazione, di quello che è avvenuto due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa. Questo disagio deve trovare sicuramente ascolto e bisogna trovare gli strumenti per riuscire a lenire questo disagio. Ecco perché, per esempio, nelle leggi di stabilità ci sono tanti interventi di attenzione alla nuova povertà che in un paese come il nostro è emersa, tanti strumenti di attenzione a come alleviare i guai di chi ha perso il lavoro, tanti strumenti di attenzione alla parte della popolazione più in difficoltà, i non autosufficienti, i disabili. Quindi questa legge di stabilità per la prima volta inverte la tendenza dopo tanti anni con l'attenzione alla parte del paese che soffre di più. Segnalo anche il fatto che la legge di stabilità interviene sul tema degli esodati. Quindi il disagio provocato da scelte degli anni scorsi trova delle risposte. Il punto chiave è che noi accanto a allenire il disagio dobbiamo creare le condizioni perché si riparta, che è quello che stiamo cercando di fare. Quindi io non mi metto a fare polemiche o altre cose. a leggere i vostri giornali, la settimana scorsa l'Italia era praticamente sotto una rivolta. Oggi mi chiedete appunto se è tutto finito. Sono abituato a questo modo di vivere in un paese che è sempre un paese dalle emozioni forti, ma non mi faccio legare né in un senso né nell'altro, non è che faccio polemiche su questo. Dico semplicemente che il compito mio è quello di lasciare da parte la schiuma e andare alla sostanza. E la sostanza è il disagio che oggettivamente c'è. Perché i danni di anni di austerità hanno portato un disagio sociale profondissimo. E chi governa oggi deve avere la prima attenzione a chi vive questo disagio. A chi ha perso il lavoro, a chi si trova senza occupazione, a chi ha vissuto con fatica. Faccio sempre riferimento al fatto che per esempio sulla casa si è tanto discusso di tante iniziative, di tante materie in questo periodo. Io segnalo che il nostro governo ha messo in campo due iniziative che hanno a che vedere con l'aiuto alla cosiddetta morosità incolpevole. Scusate, la morosità incolpevole, cioè chi si è trovato in condizione di non poter pagare più un mutuo perché aveva contestualmente perso il posto di lavoro. L'aiuto alle giovani coppie per la casa, l'aiuto ai lavoratori precari per la casa. Ascoltare il disagio e intervenire su questi versanti di fatica rappresenta per me e per quanto mi riguarda sicuramente uno degli obiettivi principali dell'azione del mio governo. Ultima. Buongiorno Presidente, Ida Colucci del Tg2. Lei ha detto un passo alla volta che non piace però agli impazienti. Quanti ne avete detto a una sedi impazienti? Guardi, lo dico così ci chiariamo. Non mi riferivo a Matteo Renzi, perché sotto ogni frase che io dico viene interpretata se mi riferisco o no. Anzi, sottolineo il punto che questi primi giorni hanno dimostrato che in differenti ruoli, con differenti caratteristiche, ma lavoriamo bene insieme. Vedo che ci sono tanti gli impazienti a cui facevo riferimento, sono tutti quelli che chiedono. Io penso che la logica del dialogo sociale non sia che si chiede, punto. Perché se è così, io metto su una bancarella, qui facciamo tipo, vabbè, ci siamo a perdere. Però non è così, insomma, la logica del dialogo sociale è che non è che c'è davanti soltanto chiedere e poi dopo c'è un governo che stampa moneta. Perché non è così, bisogna rendersi conto della situazione e soprattutto rendersi conto del fatto che la legge di stabilità ha un suo equilibrio. Questo equilibrio è stato aggiustato nel passaggio al Senato, con alcuni interventi che hanno migliorato le cose, è stato aggiustato nel passaggio alla Camera che chiude oggi. Oggi la legge di stabilità dà moltissime risposte. E io penso che queste risposte vadano nella direzione giusta dell'inversione di tendenza sulle questioni essenziali che sono ascoltare il disagio, lenire le ferite sociali e cercare di far ripartire il Paese. È un'inversione di tendenza che ovviamente va rafforzata, perché anch'io vorrei che ci fosse di più, ma è quello che faremo l'anno prossimo. Grazie.